Adriano Sabadin, lei è disposto a incontrare l'assassino di suo padre? Assolutamente no. Così il figlio di Lino, il macellaio di Santa Mere di Sala, ucciso da Cesare Battisti, con un secco no, trancia e preclude ogni possibilità di incontro con il terrorista rosso che dopo 37 anni di latitanza, catturato nel 2019, è stato condannato all'ergastolo in via definitiva per quattro omicidi. Terrorista che ora mira la cosiddetta mediazione penale, grazie alla legge Cartabia punta cioè a incontrare i parenti delle vittime per avere dei permessi premio, avendo come obiettivo il ritorno alla libertà. Non voglio assolutamente incontrare Battisti, questa mattina appena ricevuto la notizia mi sono scambiato un messaggio con Maurizio Campagna, Alberto lo devo ancora sentire e tutti e due ironicamente l'abbiamo riso in faccia. Battisti che ha sempre parlato di guerra giusta in relazione alle rivendicazioni degli omicidi commessi a sangue freddo, ora punta alla strada della redenzione per ottenere delle misure alternative al carcere. Lui ha ancora 25 anni da scontare che si mette il cuore in pace e che li faccia tutti. Il terrorista, oggi 69enne, si trova nel carcere di Massa in Toscana dove ha ottenuto uno sconto di pena nel 2020 per buona condotta insieme al cambiamento di status da ex detenuto in regime di alta sicurezza a detenuto comune. Il terrorista Battisti può mettersi il cuore in pace, guida Santa Mere di Sala per queste e le prossime festività natalizie nessuno vorrà mai incontrarlo. Taglia corto e conclude Adriano Sabadin. Buone feste anche a lui. Buone feste anche a lui.